Dai che ce l'ho puoi fare, vedo che non c'è nessuno qua qui nel momento. Nooo, bastardo! Dove sei? Ucciso in azione! No! Bastardo! Dai dai, rinasci dove sono io e non se ne parli più. E quindi... Ma vedo che sei anche incappucciato in questo momento. Sì sì, mi faceva freddo. Faceva freddo, è fatto bene, sotto solo il cuocente, certo. In realtà in questi giorni sono finito per errore in un'area a 5 stelle. E non sapevi che cosa votare? No, in realtà mi hanno stuprato con un rastrello per 48 ore consecutive. Che meraviglia! Quindi ho capito che non è una cosa da fare. No! Ma io ricordo che eravamo in ballo forse l'ultima missione storia. Sì, ti ricordi bene. Non stirare le pecore o le carpe? Volevo stirarle, onestamente. Anche perché mi sono accorto adesso che dobbiamo scendere. Ah, va bene. E prendiamo la barchetta. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che dovevamo seccare il tizio... Non mi ricordo più. Ah, alla festa. Alla festa, esatto. Il party di Karzita. Bravo. Una cosa che mi chiedono, quando corriamo i due personaggi in qualsiasi gioco corrono più veloci. Adesso non vorrei dirlo, ma porca di quella puttana. Sei veramente indietro. Perché io ho preso la barca dei poveri? E che devi cominciare a capire cosa vuol dire essere un pescatore. Scogli 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 scusa eh. Un sacco, sì. Un sacco, un sacco di scogli, sì. Non lei vada, io arrivo. Ah, sì, sì, io vado. Non ti aspetto assurdamente. Sono qua sopra. Li vedo, li vedo. Oh, che c'è qualcuno da mitraglia, oh. Andato. Io faccio così. No. Non è stata una grande idea. È la mossa. È stata una grande idea. Allora, io ho il drone un po' potenziato eh. Un pochino anch'io, ma non so quanto. Sì, diciamo che ha molto più autonomia. La di tempo di ricarica è più basso. Può andare molto più in alto e molto più lontano. E fa anche i pompini. Sì, quello mi è costato parecchio, però devo dire che... Beh, sono tante soddisfazioni. Sì, sì, utile. È dentro Carzita. L'ho beccato. Non uccidete Carzita. Bene. Ma non dobbiamo ucciderlo. Quindi lascia che ci penso io a prenderlo perché so che tutti i problemi... Siamo in una botte di ferro. Una botte di sterco più che altro. Tanto ho già capito che qua va schifio. Sì, sì, va schifo. Ormai questa è partita così. Ma sono le migliori eh. Assolutamente. Preso Carzita. L'hai preso? Sì. Sboroni. Fai attento. Questo abito costa molto più di casa tua. Non se si sporca con il tuo sangue. Bella. C'è gente qui eh. Cazzo è ineggettabile. Voglio il mio avvocato. È lui che vuole il suo avvocato? Sì. Guarda che qui siamo in serie A. Il tuo avvocato può solo controllarti il testamento. Ehi, un momento. Mettiamoci d'accordo. Quanti soldi volete? Ho seccato un civile ma non volevo. Non ho un problema. Sono spiccioli. Sapete chi è mio padre? Non me ne fotte un cazzo dei soldi Carzita. Lavoro per il governo degli Stati Uniti. E' zitto. Solti disinfettante spendiamo miliardi di dollari. E' solo di fondi pubblici. Cosa volete da me? Voglio una lista di loro. Tutto posto? Ce l'hai fatta? Sta interrogando. Non lo so. Te lo curo. Ok. Te lo curo. Io non vi ho detto niente ma i dati sugli ospiti sono salvati su un server ok? Ok server. Ah quello lì. Ah quindi doveva darci la posizione del server dove ha i nomi di tutti gli allegri comari. Esatto. Quindi abbiamo la posizione a questo punto qua sotto. Sì ma direi che visto che qui sopra abbiamo ben quattro elicotteri. Ne prendiamo due testa. Bene terminiamo il lavoro. Passo è chiudo. Bella idea. Prendere una testa vuol dire rischiare secondo me di... Si potrebbe provare. Allora l'elicottero scontro in volo con esiti nefasti. Potrebbe essere divertente. Granata! Dai. L'elicottero è andato. Senti che rumoraccio che ha fatto. Ecco. Ecco cazzo di... A nuoto io. Esploso. Non è bello quello che hai fatto eh. Taci. E che spara? Marca puttana. Senta che spari? Sono vigliacco. Vigliacco. Mi raggiunga dove sono io? Proprio dove sei te non lo so. Però ho lasciato l'elicottero lì così possiamo riprenderci. Capito? L'elicottero fuma. L'elicottero fuma e non è colpa nostra. E fanno smettere. Se è tabagista. Ah però c'è anche un jammer che disturba il drone. Tanto per cambiare. Oh ma c'è un pochino. Ma stiamo sparando? Sì ma li sto tenendo sotto. Bada. Con la pistolina silenziata è una meraviglia. Cazzo ma lo stronzo lì è resistenza però eh. Perché ha lasciato i ragi? Eh loro hanno anche questa bella coata. Tento che ce l'hanno con te eh. Ho notato. Aia. No cacchio. Sì questa è da prendere un attimino più tattica. Eh per quello che ti dicevo di venire da parte di qua perché. C'hai ragione c'hai ragione. Allora tra un po' li faccio incazzare e comincia ad arrivare gente qua sotto. Ah ma qua c'è proprio una porta c'è il cancello. Pattuglia pattuglia pattuglia. No non sta bene. Aspetta che chiamo i mercenari. Così ci danno una mano. Proprio che arrivano qua sotto eh. Ce la fai a tenere la biavada? Sì. Prendo la rincorsa. Vado? Aspetta che voglio vedere vai. Dove sei? Ma io mi faccio malissimo. Ma no ma che ti aprono? Hai la macchina di Santa Blanca? Ah cazzo. È certo. Io mi aspettavo chissà che cosa. Ma va occhio che adesso però. So cazze eh. No ma qui all'entrata non ce ne sono più. Ma guarda vediamo se riesco a... No ma facciamo ancora 20 secondi. Mi pare il culo e vado? Eh? Io mi fido di te. Parami il culo. No 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 no. Aspetta che non andare che sono nascosto. Io aspetterei almeno altri 20 secondi. Eccolo chi c'è lungo. Aspetterei 20 secondi. Che brutta fia. No 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 l'hai preso. Preso l'ho preso. No. Adesso sì. Tra qualche secondo abbiamo il mortaio. Ottimo medio. Che userei per far saltare il jammer. Riesce a pescarlo? Sì sì lo vedo lo vedo. È mio. Se tiro fuori le corna o... No faccio un assalto. C'è solo due qua? Sì. Pensate io sì. Ok. Mortaio. Aspetta eh. Bersaglio numero 2. Lei. Ok che arrivano. Ti parlo del culo da destra che stanno arrivando. C'è un altro lì davanti a te. Dove l'ho visto? Quello l'avevo settato. Non capisco perché non parte il mortaio. Forse per via del jammer anche qua lo fa. Ma non si apre. Ah con la moto non si apre. Eh con una macchina probabilmente. Eh c'ho la moto. Pensavo si apreste anche una moto. Ho sentito un rumoraccio. Ho sbattuto il muso infatti. Pensavo che si aprisse. Ma qua a sinistra dovrebbe esserci qualcosa. Lui indica. No? Sì ma non so che non so che non so che lui. Dentro la casetta forse. La 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 davanti. La lelicoptero e lelicoptero? Dietro dietro dietro. Dove? Nella casa di destra. C'era qualcosa che ci puntava. Tu stai qua. Io vado a stanarlo. Appena tira fuori il muso. Mi sparano questi bastardi. Ma non capisco da dove. Mi sparano? Sì. Eccolo lì. Andato. Un altro. Ce ne sono tanti eh. Un altro ancora. Ce n'era un ultimo che però non sono riuscito a vedere. Mi dobbiamo avvicinare perché... Bello. Non è che fuori le corne. Ok. Ciao. Il server con la lista ospiti. Ah qua c'è il server. Bene. Ok forza. Prendiamo la lista con i nomi e andiamo. Aia. Inizio il download. Occhi aperti. Aia. Aia. Elicotteri? Come elicotteri? Gusti. Sì. Credo. Salgo sul furgone io. Vediamo se riusciamo a contrastarli anche con questo. L'unica cosa è che sono un po' spostato. Oh cavolo male. Allora. Innanzitutto chiamo i mercenari. E non fa mai male. assolutamente fuori 1 fuori 2 allora non ho più l'arma quella di Uriel Politro quella quella sgrava però fa comunque il suo forte lavoro dove è l'altro l'olicottero? non c'è più c'è solo un gran barbecue qua vedo vedo ok c'è gente lì a sinistra è un po' antisportivo però questa cosa a me sembri di avere un pisalo di 40 metri non penso che riuscirà a derivare fin qua lasciala a me ma io ce l'ho metà dietro non è che ne è sceso 1 ne è sceso 1 vado a prenderlo ormai sono spavaldo vai sono in onda non sono sicuro di voler sapere chi c'è su quella lista senza dubbio il gruppo Bilderberg bene è entrata molto bene fino adesso però io me la svinirei sì elicottero prima di subito l'abbiamo hackerato devi prendere i dati altro che puntabilità ah sì 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 devi recuperare la lista VIP ottimo e anche il caro Carsita gli uomini del governo vorranno sapere cosa ci facevano in Bolivia va tutto a gonfie vele continuate a colpirli dove fa più male in mezzo alle palle ci lo siamo allevato dalle palle no diceva di andare avanti a colpirli dove gli fa più male ah purtroppo non ho avuto questa comunicazione quindi dopo questa acqua anche plan d'agua verde è data quindi ci sarebbe secondo me o coral se facciamo pensiero grazie grazie